E' stato il focolaio di Covid-19 a consentire a Enas di Pescara di scoprire una struttura ricettiva per anziani non autosufficienti completamente abusiva, al punto che gli operatori addirittura erano inquadrati come dei braccianti agricoli. Per la struttura di Castellalto, denominata fattoria sociale, è scattato il sequestro preventivo di due immobili al termine delle indagini coordinate dal PM della procura di Teramo Davide Rosati. Nella struttura del Teramano, come detto, sono state registrate positività sia tra il personale addetto all'assistenza che tra gli ospiti con quattro decessi riguardanti due uomini e due donne, uno dei quali di 51 anni, avvenuti negli ospedali di Teramo e Giulianova. Nel corso delle indagini è stato accertato che al posto della dichiarata fattoria sociale vi era di fatto una residenza per anziani peraltro non autosufficienti e con disagi psicofisici. Il personale addetto all'assistenza per di più era privo delle specifiche qualifiche assistenziali e non appartenente ad alcuna delle professioni sanitarie. Dopo l'intervento dei carabinieri, gli ospiti sono stati tutti trasferiti in altre strutture sanitarie idonee.